Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini, questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo a quella scritta cinese, se in questo caso hai riscontrato un errore del genere o appena aiutato un ragazzo che ha ricevuto così questo problema, proprio a questa scritta cinese che una volta che sei entrato nel gioco, stai giocando, te la stai spassando, dopo un po' ti esce questo quando vai ad avviarlo, quindi in questo caso su Black Meat Wukong puoi risolvere tutto attraverso appdata oppure reinstallando il gioco, quindi in questo caso basta che vai direttamente su esegui qua sopra vai a scrivere così appdata %appdata% entri così nella cartella, vai su appdata in local, scendi fino a giù, fino a trovare così la cartella Black Meat Wukong e la cancelli se non sta qua, allora vuol dire che sta in local law se non sta qua, allora vuol dire che sta in subroaming qua dentro se in questo caso hai provato a usare qualche applicazione di cheating o programmi esterni che bloccano così il funzionamento di Black Meat Wukong, ti consiglio di cancellare quelle applicazioni sempre in appdata e disinstallare quelle applicazioni se no in questo caso vai direttamente su Windows Defender protezione da virus e minacce gestisci impostazioni esclusioni aggiungi o rimuovi esclusioni aggiungi un'esclusione, cartella e inserisci la cartella Black Meat Wukong selezioni la cartella e la inserisci qua così facendo l'antivirus non romperà più le scatole a Black Meat Wukong anche per altri problemi ancora puoi sempre aggiornare i driver della tua scheda grafica attraverso gestione dispositivi oppure se hai Nvidia scarica così l'applicazione Nvidia App Beta sempre in descrizione la scarichi, la installi e una volta fatto avvi l'applicazione vai su driver e aggiorni così i driver del gioco come puoi vedere c'è un driver da installare su Black Meat Wukong per la mia scheda grafica se no puoi anche fare direttamente schede video schede video, aggiorna driver schede video nel computer scelta un elenco di driver disponibile e di così la tua scheda fai avanti e installa il driver se no in questo caso esegui come amministratore il gioco se no dovesse bastare prova a fare la verifica quindi verifica di integrità di file su Steam e ripari il gioco per altri problemi ancora puoi guardare le altre guide a riguardo su come risolvere i problemi del black screen crash, lag, aumentare gli fps, problemi all'avvio tutto nella playlist di Black Meat Wukong grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao